In nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, amo Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni Divina Volontà a pregare in me, poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella Divina Volontà, Regina Immacolata, Celeste e Madre Mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti i cosospiri più ardenti che mi ammette a vivere nel Regno della Divina Volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo Regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, Sovrana Regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel Regno del Volere Divino e stretto la tua mano materna guiderai tutto l'essere mio, perché faccia vita perenne nella Divina Volontà. Tu mi farai da mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la Divina Volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal Regno Suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. O mio Signore, Cristo Gesù Venga il tuo regno Venga il tuo regno O mio Signore Cristo Gesù Venga il tuo regno Venga il tuo regno Venga il tuo regno Mi fondo in te Mi fondo in te O mio Signore O mio Signore Per adorarti Per adorarti Nel tuo volere Emanue 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 Cristo Gesù Cristo Gesù Cristo Gesù Cristo Gesù Venga il tuo regno Venga il tuo regno O mio Signore O mio Signore Cristo Gesù Cristo Gesù Venga il tuo regno Cristo Gesù Venga il tuo regno Venga il tuo regno Nel tuo volere Nel tuo volere O mio Signore O mio Signore Non sono io Io che vivo Ma tu che dimmi Da Libro di Ceno Volume sesto capitolo 68 agosto 1904 Se guidando a stentare Quando appena Il mio adorabile Gesù È venuto Sebbene me lo sentivo vicino Ma facevo per prenderlo E mi sfuggiva E quasi mi impediva Di uscire fuori di me stessa Per andare in cerca di lui Onde Dopo aver molto ostentato Quando appena si è fatto vedere Mi ha detto Figlia mia Non mi cercare fuori di te Ma dentro di te Nel fondo della tua anima Perché se esci fuori E non mi trovi Ti soffrirai assai E non potrai resistere Se mi puoi trovare Con più facilità Perché vuoi stentare Ed io Credo che non trovandovi Subito in me Posso trovarmi fuori È l'amore Che a ciò mi spinge E lui Ah È l'amore Che a ciò ti spinge Tutto Tutto dovrebbe essere racchiuso In una sola parola Amore E chi non racchiude tutto in questo Si può dire che Dell'amarmi L'anima non ne conosce Neppure un hack Ed a misura Ed a misura che l'anima Mi ami Così reingrandisco Il dono del patire Ed io Interrompendo il suo dire Tutta stupita ed afflitto Ho detto Vita mia È tutto il mio bene Dunque io poco Niente soffro Quindi poco Niente ti amo Che spavento Il solo pensare Che non ti amo L'anima mia Ne sento un vivo dispiacere Quasi quasi Mi sento da te Offesa E lui è soggiunta Io non intendo Dispiacerti Il tuo dispiacere Premerebbe più sul cuore mio Che sul tuo E poi non devi guardare Alle sole sofferenze corporali Ma anche alle spirituali La volontà vera Che è del patire Perché volere l'anima Veramente patire Innanzi a me È come se l'anima L'avesse patito Perciò Chietati E non ti turbare E lasciami continuare il mio dire Non hai visto mai Tu Due intimi amici? O come cercano Di imitarsi L'un l'altro E di ritrarre In se stesso Il proprio amico Quindi Ritrattano la voce I modi I passi Le opere Le vesti Qui con ritrarre Si intende Ritraggono Quindi ritraggono La voce I modi Passi Le opere Le vesti Sicché l'amico può dire Colui che mi ama È un altro me stesso Ed essendo me stesso Non posso fare A meno D'amarlo Cosa faccio Cosa faccio io Per l'anima Che racchiude Tutta sé Come dentro Un breve Come dentro Un breve Giro d'amore Tutto me Mi sento Come ritratto In essa E trovando me stesso È stata Dentro e fuori Tutta ripiena Di luce Ma non so dire Ciò che questa luce Ha compreso E provato L'anima mia Solo dico Che dopo Il benedetto Gesù Mi ha detto Figlia mia Non sono le opere Che costituiscono Il merito Dell'uomo Ma la sola Ubbidienza Che costituisce Tutti i meriti Come parto Della volontà Divina Tanto che Tutto ciò Che fece Soffrire Nel corso Della mia vita Tutto fu Parto Della volontà Del padre Perciò I miei meriti Sono innumerevoli Perché tutti Costituiti Dall'ubbedienza Divina Perciò Io non guardo Tanto alla Moltiplicità E grandezza Delle opere Ma alla Connessione Che hanno O direttamente All'ubbedienza Divina O indirettamente All'ubbedienza Di chi Mi rappresenta Bene Voglio il Signore Aiutarci A penetrare Bene La sabienza Infinita Ecco Contenuta In questi due Splendidi Capitoli Il primo È il capitolo Dell'amore È il capitolo Dell'amicizia Intima Potremmo così dire Amicizia intima Che Nei rapporti con Gesù E con Maria Fa parte Integrante Della vita Della dinamica Di Amore Due innamorati Quando sono Due innamorati Pensiamo per esempio All'amore Responsale Sono e dovrebbero essere Anzitutto I due migliori amici E anche nelle amicizie umane Come Gesù spiega Quando l'amicizia è grande C'è come una gara di emulazione Tra gli amici Si dice anche il proverbio Similes Cum similibus E nella sagra scrittura Nei libri sapienziali Dove si parla Sono parole bellissime Sulla amicizia Se si legge Tale è l'amico Così sarà il suo amico Una cosa del genere Insomma Come è il tuo amico Così sarai tu Non ricordo Né Purtroppo In questo momento Il libro sapienziale In cui c'è questa citazione Facilmente rinvenibile Con Gli strumenti multimediali Nella frase precisa Ma questo era Il senso Come è l'amico Così sarai tu Allora Qui Gesù Dice una cosa molto bella Da cui possiamo cominciare Subito a meditare Anche per noi Non cercarmi tanto Fuori di te Ma dentro di te E' chiaro che Luisa Cercava Gesù Anche fuori di sé Perché Luisa Lo vedeva Gesù Quindi lo vedeva Con una visione Molto molto concreta Spesso e volentieri D'accordo Quindi si intratteneva Poi i rapporti Intimi e personali Con lui De visu Cose che evidentemente Gli davano Un diletto infinito Gesù però dice Guarda Dentro mi trovi sempre Anche se non mi trovi fuori E lì Luisa Da una grande risposta Credo che non trovandovi subito in me Posso trovarvi fuori E' l'amore che a ciò mi spinge E' l'amore che a ciò mi spinge E da qui Perché l'amore che cosa L'amore che cosa esige L'amore esige Di stare con l'amato Come faccio a capire Se amo Gesù O se amo la Madonna Una cosa facilissima Li amo tanto Quanto cerco di stare con loro Cioè Due persone che si amano Vogliono stare insieme Non è che ci vuole tanto Anzi Non si staccherebbero mai Allora Amo Gesù Quanto ci sto con Gesù Quanto volentieri Va la messa Quanto volentieri Faccio la comunione Quanto volentieri Sto facendo l'adorazione Quanto volentieri Mi isolo Da tutti e da tutti E mi intrattengo In pie Conversazioni con Lui In santi affetti con Lui In tutto quello che Poi ogni singola anima conosce Quanto Se non c'è neanche Questa esigenza L'amore È quasi inesistente Attenzione È evidente Ci sono dei periodi Li è passati anche Lui Se Gesù non munisce anche lei Dove Non avvertendo il fervore Insomma E niente Certamente tante cose Diventano un pochino Aride Un pochino penose Però come tante volte Ho detto Questi devono essere Piccoli periodi Non può essere Che sia sempre così E in quei periodi L'amore diventa Rafforzato Diciamo come atto Di volontà Ed io Farò le stesse cose Anche se non ci provo Nessun gusto Per dimostrare L'amore solido Insomma Gesù Però questo è E poi Non soltanto I momenti dedicati All'amore Cioè Il rapporto con Giuseppe e Maria Veramente Se uno entra Nel mondo Della divina volontà Due innamorati Hanno Come dire I momenti Dove stanno da soli Poi C'è la vita Normale Ecco qui Il rapporto con Giuseppe e Maria Ha un tasso qualitativo Superiore Ecco Magari I due innamorati Si pensano L'uno con l'altro Quando stanno lontani Noi invece Giuseppe e Maria Possiamo avere sempre a fianco E non solo pensarli D'accordo Perché loro ci sono presenti Sempre Quindi possiamo parlarci Quindi possiamo Interloquirci Possiamo lanciargli Un atto d'amore Dove comunque ci troviamo La vita Nella divina volontà Porta A questo stato Addirittura Di fusione Fusione più grande Che unione Come sappiamo No Quindi H24 È sempre il nostro Parametro di Di riferimento Di giorno e di notte E Gesù dice Attenzione Tutto dovrebbe essere racchiuto In una sola parola Amore Chi non racchiude tutto In questo Si può dire Che dell'amarmi L'anima non ne conosce Neppure un H Eppure cioè La santità Parte D'accordo Parte Si compie Nell'amore a Gesù E a Maria E' chiaro Che poi Gesù dice A misura che l'anima Mi ami Così reingrandisco Il dono del patire Per tanti motivi No? Ecco Non ultimo Che i gioielli Dello sposo Sono i gioielli Della sposa Ecco Quindi Attenzione Gesù parla Ad una candidata Non solo candidata Ma poi La candidatura Ha avuto successo Ad essere La primogenita Del regno Della divina volontà D'accordo? Per cui Tante volte L'abbiamo già meditato Nessuno pensi Che la vita Nella divina volontà Che è vita di felicità E di paradiso terrestre Anticipato Escluda però La croce Quindi non si abbia mai Questo modo Diciamo così Sbagliato Ecco Oltre che Un po' puerile Di accostarsi Alla vita Nella divina volontà Ecco Quindi questo non c'è E allora Luisa Si preoccupa Dice Ma io non soffro abbastanza E qui Gesù fa una lezione Sulle Sofferenze Le sofferenze Non sono solo Quelle fisiche Magari questo era un periodo In cui da un punto di vista fisico Luisa non stava Come dire Messa Molto male No? Quindi Non aveva grandi sofferenze Però ci sono le sofferenze Spirituali Che sono molto più grandi Di quelle fisiche No? Sono quelle interiori Sono quelle morali Cioè Quando non lo so Sappiamo che qualcuno Ci parla male dietro Quando riceviamo qualche offesa Qualche partaccia Quando Gesù Non si fa sentire Lo sentiamo lontano E quindi Per Luisa Questo è il dolore Più grande di tutti No? Abbiamo detto tante Abbiamo visto e detto Tante Tante volte Quindi sono tante Le forme di sofferenza Che La vita ci propone No? Quando dobbiamo fare Qualche grosso taglio Nella nostra vita No? Per amore di Gesù Tagli reali Tagli da cose Tagli affettivi Eccetera eccetera Ecco Quindi La sofferenza Dell'amante Ha come principio Come dire La somiglianza Con l'amato Questo è il D'accordo? Così I devoti Della Madonna Non Cioè Se la amano Cioè Il cuore della Madonna Ci dicono gli iscritti Non c'ha avuto sette spade C'è avuto qualche milione Di spade Non è pensabile Insomma Che il cuore dei devoti Di Maria Non partecipino Di qualcuna di queste spade No? Non è possibile Immaginarlo Sarebbe una devozione Sicuramente Sicuramente falsa No? Ecco In base a questo principio Gesù fa uno step ulteriore Che è L'amicizia E L'imitazione Dell'uno e dell'altro Per ritrarre in se stessi Il proprio amico Questo è un punto Fondamentalissimo Della vita Della divina volontà Allora Questo Cioè Attenzione Ritrattano La voce Adesso farò Gli esempi Perché ti faccio I modi I passi I passi Le opere Le vesti Sicché l'amico può dire Colui che mi ama È un altro me stesso Ed essendo me stesso Non posso fare A meno Amarlo La voce Per esempio Come era la voce Di Gesù e della Madonna La voce di Gesù e della Madonna Senza nessunissimo dubbio Era una carezza Di cielo Solo a sentirla Che ti si poggiava Sull'anima Quindi come noi parliamo Proprio la La modalità Del nostro linguaggio La dolcezza Del nostro linguaggio La pagatezza Cioè Può Un amante Di Gesù e di Maria Alzare la voce Per qualunque motivo No Se vuole imitare No No Può Esprimersi con tono Sdegnato Anche scocciato Sgarbato Aggressivo No No Ci riscontriamo Che magari facciamo così E bisogna correggere Non c'è niente da fare Altrimenti dell'amore Non Non capiamo neanche un H Che l'amore porta All'imitazione Cioè La fusione Che significa Significa che La fusione Cioè Capite C'è la fusione proprio profonda Quando si vive Come dice San Paolo Dal resto Non sono più io che vivo Ma Cristo vive in me Significa questa via Che vita in una carne Cioè Si giunge Questo lo dice anche San Massimiliano A proposito della vita mariana Lui parlava della transustanza Sostanziazione in Maria Cioè Maria diventa La vita dell'anima E praticamente La personalità umana Quindi il corpo E anche Come dire La personalità Appunto interiore della persona Diventano come gli accidenti dell'ostia Cioè Certamente Gli accidenti dell'ostia Cioè Noi quando facciamo la comunione Sentiamo il sapore del pane Sentiamo il sapore del vino Eccetera Eccetera Quindi non è che scompaiono Ci stanno Ma la sostanza è un'altra Quindi capite che significa Tutto è informato D'accordo Non c'è neanche un dettaglio Della mia esistenza Che non sia mariano Secondo San Massimiliano O che non sia cristiano D'accordo Secondo Cioè Tanto Questo doppio binario Delle umanità di Gesù di Maria È sempre bene tenerlo presente Per Certamente In considerazione Dei punti di devozione personali No Quindi la voce I modi I modi Che modi avevano Gesù era Madonna Tutto il contrario di quello che si vede oggi in giro Stop a scrivere un post su Facebook D'accordo Stop a scrivere una bella Notizia Scandalistica D'accordo Per Esprimere Sdegno Verso qualcosa Prima di Cominciare a muovere le dita Sulla tastiera Tu devi chiedere Ma il mio amico Gesù Questa cosa la farebbe? Userebbe questi modi? I modi Che noi usiamo con le persone Questo vale Capite? Cioè Vediamo che l'ambito qui Di azione Si può fare qualche piccolo esempio L'ambito di azione Più che l'ambito di azione L'ambito di esame E' indefinito E' infinito Ma questo dobbiamo abituarci a farlo Se no la vita Nella vita Ha avuto tutte le altre chiacchiere Le vesti Passiamo alle vesti Poi andiamo a vedere anche altre Le vesti Cioè Uomini E donne Soprattutto Le vesti E tanti altri accessori D'accordo? Qui vorrei Non lo so se stuzzicare Tanto è una Una meditazione Cioè Capiamo Come sei vestito Come sei Uomo o donna Che sei Le donne devono sempre confrontarsi con la madonna La madonna andrebbe in giro come sto andando in giro io Userebbe questi vestiti Metterebbe questa cosa Userebbe questo colore Di un cosmetico Ma lo userebbe questo cosmetico D'accordo? Passerebbe tutte quante queste ore A dare il culto al corpo Cioè Come non si cominciano a toccare queste cose Cioè Io guardo E sto sempre in silenzio No? Cioè Però persone che desiderano vivere nella divina volontà Che hanno uno stile Anche esteriore In tutto conforme Alle mode di questo attuale mondo Ma io penso che Debano ascoltare bene queste cose Debano mettersi davanti a Gesù e Maria A fare un bel esame di coscienza E' chiaro che non è obbligato a Cioè Ma qui Il regno della divina volontà È il regno della libertà Capite? I passi Addirittura i passi Il modo di camminare Perché I modi di camminare Sono oggetto di studio Da parte di persone esperte nelle scienze umane Perché il modo con cui noi camminiamo Eh Noi esprimiamo la quintessenza di noi stessi Nel modo in cui camminiamo Esprimiamo le nostre passioni Se siamo superbi Se siamo iragondi Esprimiamo le nostre frustrazioni D'accordo? Se siamo complessati o altre cose Si vede da come uno cammina Vabbia Immaginare come camminavano Gesù e Maria D'accordo? E adeguare i nostri passi a loro Perché la nostra vita in loro deve essere Come dire Santificata Riconciliata Eccetera Le opere Le opere D'accordo? Se uno non vuole mai sbagliare Questo è un principio Prima di fare una cosa Guarda Gesù Guarda Maria Chiediti se lo farebbe E cerca di farlo come la farebbero loro Cioè Io penso Sono convintissimo di questo qui Che bisogna sempre tenere presente Un principio che Gesù afferma chiarissimamente Negli scritti Cioè prima di entrare nella divina volontà Bisogna farla Quindi non bisogna troppo esacerbare Diciamo così Questo superamento Del vivere nella divina volontà Rispetto al fare la divina volontà Perché se no si può pensare Che Ripeto Alcuni atti propri Della vita Nella divina volontà Tipo l'atto preventivo Tipo l'atto di diffusione Tipo l'atto attuale Siano Una sorta di Sostituto automatico Di tutto quanto L'impegno ascetico Che è necessario Per Fare queste cose Cioè Se uno deve rivoluzionare Il proprio modo di vestire Lo deve fare Lo deve Non è che non lo deve Cioè Se vuole entrare nella divina volontà Lo deve fare Perché quel modo di vestire A Gesù Maria Non gli piace D'accordo? Quel modo di parlare Non gli piace Quel tono di voce Non gli piace Quei modi che hai I villani I scredanzati I maleducati O sgarbati Non gli piacciono A Gesù E a Maria O superbi Quel modo di camminare Affettato O insupervito O rattrappito Non gli piacciono A Gesù e Maria D'accordo? Tante opere Che noi possiamo fare Non le piacciono a loro Allora Cosa dice Gesù? Colui che mi ama Ma è un altro me stesso Capito? Cosa dice Maria? Colui che mi ama Colui o con lei È un'altra me stessa È un'altra me stessa Le assomigliano Le assomigliano Ma pensiamo a Gesù e Maria Quanto si amavano loro? E quanto si assomigliavano A Gesù e Maria? Quanto? Esternamente Ed anche interiormente Anche nel carattere Anche proprio appunto Nei modi Nei passi Cioè in quelle Manifestazioni Della personalità Che sono Appunto proprio Espressive Di chi noi siamo Secondo me Erano due gocce d'acqua Due gocce d'acqua E io me lo devo chiedere Ma io sono due gocce d'acqua Con Gesù? Sono due gocce d'acqua E non posso dire Ma no Io non ci sono Pazienza No pazienza Cominciamo piano piano A vedere punto per punto E a rettificare No pazienza Certo pazienza Nel senso che non si può fare Dall'oggi al domani Ma Non si può Allora Cosa dice Gesù? Così faccio io per l'anima Che racchiudo tutta sé Come dentro un breve giro d'amore Tutto me mi sento Come ritratto in sé stessa Trovando me stesso Di tutto cuore la amo E non posso per almeno Di stare con lei Perché se la lascio Lascerei me stesso Allora Cioè Questo Cosa sta dicendo Gesù indirettamente? Che quanto più tu gli assomegli Tanto più lui starà con te E ti farà anche avvertire La sua presenza Perché? Perché ti ritrova a sé stesso E ti ritrova la divina volontà La divina volontà E queste cose Non pensiamo che non ci siano Allora Chiudiamo Il secondo paragrafetto Attenzione Gesù parla Ubbidienza Le cose su cui abbiamo appena Ubbidienza cosa? Si spiega no? L'ubbidienza diretta È l'ubbidienza divina Cioè l'ubbidienza a quello che Dio vuole L'ubbidienza indiretta È l'ubbidienza a chi mi rappresenta Per chi ha Come dire Un riferimento O canonico Obbligatorio E questo ce l'abbiamo tutti Noi cattolici D'accordo? Chi più chi meno Io ho il vescovo Il papa Il magistero della chiesa D'accordo? E poi c'è il padre spirituale Se ce l'ho Ecco Un federe laico C'ha il parroco C'ha il vescovo C'ha il papa C'ha il papa C'ha il padre Non vuole più Aspetta a me che sono il parroco E poi ce l'ha C'ha il padre spirituale Ecco Ma l'ubbidienza È innanzitutto Obbidienza divina D'accordo? Cioè Le cose su cui abbiamo appena Meditato Dice Ma che Dio Vuole che mi vesti In questo modo Piuttosto che in un altro Certo che lo vuole Certo E metterli davanti Al Signore a pensare Certo che lo vuole Ma che Dio vuole Che rinuncia a quest'atto di vanità? Certo che lo vuole Ma che Dio vuole Che smetto di urlare? Certo che lo vuole Che smetto di parlare In maniera sboccacciata Ma certo che lo vuole E se non lo fai Tu stai disubbidendo a Dio Capito? Noi non diciamo Ma questo che cos'è? Peccato mortale o peccato veniale? È di comando o di consiglio? Dice Ma Cioè Questi discorsi Non si possono fare In questo orizzonte Capite? Cioè Vivere nella divina volontà Come ho sempre detto Presuppone a monte Già un'opzione Già fatta Che è Vivere la santità Cioè Il Come dire La sequenza è Io voglio diventare santo Questa è la prima grande Santo Caporto Capito? A un santo Non gli importa niente Se è una cosa Peccato mortale Veniale Perfezione Imperfezione Don Dolindo raccontava In una catechesi Che le donne andavano a chiedere Ma nel momento Il rossetto È peccato Non è peccato E lui rispondeva Bene Quanto curi la tua anima Curi la tua anima Tanto quanto le tue rampa Arrivaci da sola Non mi fa Queste domande D'accordo? No? Quindi questi sono Cioè L'opzione per la santità Poi Questo è A mio opinione personale Solo Cioè Che cos'è la consagrazione Monfortana? Molta gente vuole fare la consagrazione Monfortana La consagrazione Monfortana È una via Privileggiata Tutta divina E Mariana Per diventare santi Il più presto possibile Con l'aiuto Massimo Che la Madonna Possa dare E questo Come dire L'ultimo sbocco È la vita Nella Divina Volontà Cioè I passaggi sono Santità Perfetta Devozione Mariana Che è l'emblema Della Santità Scelta di vivere Nella Divina Volontà Ma è chiaro Che l'opzione Per la santità Mi obbliga Che se io Conosco Che una cosa È gradita a Dio E un'altra Gli è sgradita Ma io quelle sgradite Non le faccio Volontariamente L'unica cosa Devo essere Consapevole Ecco perché Non si finisce mai Di camminare Che sicuramente Come sto io Oggi Molte cose Che penso Che dico Che faccio Come mi comporto Come mi vesto Come i modi Che ho Le opere Che faccio Non gli piacciono E quindi Devo stare Sempre con le orecchie Aperte Serenamente Aperte Perché Oltre che Con l'ascolto Certamente L'ascolto È sempre una cosa La fides ex audito Quindi è molto importante Ascoltare Omelie Meditazioni Catechesi Fatte da Da persone Insomma Che riconosciamo Che abbiano L'autorità La qualifica Per aiutarci E Però è anche Mettersi È molto importante Imparare a mettersi In ascolto Personale Con Gesù E a portare La nostra vita Cioè Fare bene L'esame di coscienza Ha detto recentemente Farlo bene D'accordo Non andare a dire Quattro cose A pappagallo D'accordo Per la vita Nella divina volontà Cioè Ci sono Molti ambiti Di azione Abbiamo visto Nelle meditazioni Passate gli affetti A chi sono attaccato A chi non sono attaccato Se ho qualche idolo Che lo devo togliere Immediatamente Quindi Tutte queste cose Perché Il merito Delle cose che facciamo Dice Gesù È solo l'ubbidienza A Dio E quindi Chiedermi Nelle singole cose È volontà di Dio Questo O no Se uno Impara ascoltare bene Il proprio Quella master Tranquillissimi Questo Signore Ce lo farà ben capire Solo che noi Da queste orecchie Non ci vogliamo sentire Non ci mettiamo in ascolto Perché non vogliamo Cambiare E non voler cambiare Nascondo un fatto Che ce lo dobbiamo dire Che noi vogliamo fare La volontà umana nostra Non vogliamo fare Quella di Dio Diciamocelo chiaramente Francamente Ecco Quindi certamente Ci può essere Un desiderio Cosciente Un desiderio Licito Si dice Voglio fare La volontà di Dio Però In fondo Tutte quante La mia umanità Le mie cose Dice No 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 Io questa cosa Non ci voglio rinunciare Io quest'altra cosa Non la voglio cambiare Io voglio Cioè Io voglio Io voglio Il Signore te lo rispetta D'accordo Non ti prenda a calci Questo è il regno Della libertà assoluta Ma Il tuo io voglio Non è Quello che Dio vuole E se è ancora Tanto forte Sappi che Vuoi vivere Nella Dina volontà Bene Comincia A metterti Nell'ottica Che tante cose Le dovrai Correggere E trasformare Non c'è Grazie a tutti. Grazie a tutti. E non siete certamente voi a dover imitare noi, nell'amore divino, l'imitazione è un po' senso unico, grazie a Dio. E poi diventa a doppio senso, per certi aspetti non nel senso dell'imitazione ma nel senso dell'attrazione, nel senso che quanto più impariamo ad assomigliarvi e quanto più si realizza una sorta di attrazione dell'anima che vi assomiglia, che vi bitira in qualche modo a sé come ci spiegava Gesù. Ecco, dacci una mano perché quella parola abbastanza forte che Gesù ha detto, guarda che chi non entra in questo orizzonte dell'amarmi non ha capito nemmeno un H, ecco, non sia per noi. Possiamo fare queste scelte di amore autentico e che comporti tutta quanta la vita in questo amore autentico verso di te e verso Gesù. Nella Divina volontaria, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque. Nella Divina volontaria, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria.